Caratterizzata da una linea piacevole e interni ben rifiniti, l'ammiraglia coreana concretizza il nuovo slogan del marchio New Thinking, New Possibilities, che può essere letto come andare oltre le convenzioni, sia nello stile che nei contenuti. Per l'erede della Sonica, gli ingegneri del design hanno tratto ispirazione dalla scultura fluida e così ecco apparire dei fari sul frontale che ricordano gli occhi di un rapace o le ali di un'aquila sulla linea del cofano, mentre la vista laterale porta in primo piano il tratto a salire che si allarga come un'ala presso le luci posteriori. La Hyundai i40 è il risultato di un marchio che sta crescendo e che negli ultimi 5 anni ha fatto passi da gigante. Molte le motorizzazioni disponibili, si va dal 1.6 benzina al 1.7 diesel da 136 cavalli, che risulta brillante quanto basta e non troppo assetato nei consumi. Non mancano anche volante e sedili posteriori riscaldabili, portellone elettronico e barre scorrevoli nel bagagliaio.